oggi parliamo della fesseria di vittorio feltri che ha dato modo di sviluppare polemiche su polemiche da parte di molti molti meridionali come del resto sono anche io ora qui la situazione che io leggo è la seguente il gruppo della stampa dell'espresso del luffington post e di repubblica che sono tutte una combricola non ha fatto altro che recepire strumentalmente diciamo le idiozie del signor vittorio feltri e quindi abbiamo assistito allo spostamento in funzione anti rete quattro di moltissimi simpatizzanti di che cosa dell'unico spazio di libertà che era rimasto nelle tv italiane e nella stampa il signor feltri con la sua mossa non so se studiata o inconsapevole non ha fatto altro che alienare quella che era diciamo la simpatia di alcuni settori non radical chic del dell'elettorato meridionale e dell'opinione pubblica meridionale contro diciamo la sua la sua cordata che è vicina a quelli che sono ritenuti esponenti della destra e dalla lega ed altre ed altre formazioni politiche ora questa stronzata dei meridionali dei settentrionali dei centrali quando finirà mai fino a quando abbiamo questa nullità di giornalisti e questo vi fa capire la superiorità dei social network con tutte le loro estremizzazioni nell'analisi e nel formare un collante unitario comunitario nazionale rispetto alla televisione dove c'è una passività e dove vengono promosse a rango di star intellettuali delle mezze calzette quali il signor vittorio feltri che dirige pure un giornale quando finirà mai quando finirà mai io mi chiedo finito il fascismo finita la parentesi unitaria comunitaria nazionale finito liquidato bettino craxi liquidato bettino craxi in italia non si sarebbe mai parlato più di idee di centro di nord di sud ora assistiamo a dei sindaci pagliacci il signor de magistris quell'altro lì quell'altro sala che vanno a cantare bella ciao dai balconi e qui sotto si scatena l'inferno da parte anche di frange intellettuali io dirò ci si può scatenare anche giustamente l'inferno contro un imbecille come vittorio feltri che fa un'affermazione totalmente strampalata non sa neanche di che cosa parla ignorante com'è e viene ammesso a dirigere un giornale ma qual è lo scopo antinazionale della sua parossistica e grottesca affermazione quello di agevolare la cordata radical chic e quindi lo spostamento elettorale a sinistra nell'area pd no 55 stellaci e pentastellata di quelle frange ancora libere di pensiero ci sono alcuni che mantengono questa perché tra l'altro hanno un'apertura mentale quindi non provinciale conoscono il mondo imprenditoriale conoscono la pratica della pragmaticità il pragmatismo del commercio e della dei traffici nazionali ma ci sono purtroppo della gente che non ha mai vissuto in settentrione che è convinto che ci siano queste forme dicotomiche di odio tra nord e sud queste stronzate che ancora nel 2020 ci fanno capire come noi non siamo e non potremo essere con questa con questo materiale umano una una nazione che abbia una geopolitica imperiale come l'aveva il fascismo come l'aveva come l'aveva anche la politica estera degli anni 70 degli anni 80 degli anni 60 avevamo dei giornalisti che non facevano i buffoni e mi riferisco non solo al signor feltri mi riferisco a tutti i direttori impreparati faziosi settari di repubblica della stampa di affinton post del corriere della sera abbiamo della gente totalmente inadeguata a dirigere dei giornali delle mezze calzette sono personaggi che altrove verrebbero espulsi dalla società civile gente senza arte né parte io li definirei dei portaborse che galleggiano sulle sui liquami del niente come mummie cadaveriche questa gentucola anzi questa gentaglia non fa altro che avvelenare l'atmosfera culturale di questa ex nazione a questo punto e assistiamo al boicottaggio di intere frange di persone che vivono nel meridione che vanno praticamente a riempire le fila del radical chicchismo del benedettiano e che è stato questo quindi il risultato della stronzata del signor vittorio feltri che si dimostra ancora più di quello che aveva fatto in passato come è totalmente inadeguato a poter dirigere un giornale e soprattutto ha discreditato quella che è rete 4 che si si mantiene invece ancora oggi come l'unico spazio di libertà nel domilio censorio e totalitario del radical chicchismo che va dalla sette a repubblica alla stampa al corriere al messaggero al foglio all'uffington post e a tutta all'espresso a tutta la cricca a tutta la cricca pseudo progressista della sinistra dei privilegiati che altro non è che un sindacato che si difende con i denti anzi con le zanne è una vera mafia che agisce con procedimenti mafiosi come la menzogna e la diffamazione e contro questa mafia settaria il signor feltri cosa fa non trova di meglio da quelli imbecille che che spaccare il paese ancora di più e quindi tutto il meridione che si stava orientando verso questa destra poi non voglio entrare nelle contraddizioni di questa destra ma ha una funzione antinazionale questo è quello che ha fatto volente o nolente non lo sappiamo sta di fatto che si è dimostrato una mezza calzetta e non ha fatto altro che alimentare le fesserie di quei deficienti che ancora parlano di nord di sud i polentoni di queste stronzate inaudite che ancora si sentono in una in una italietta provinciale che di imperiale non ha nulla e ha dimenticato il lascito e la lezione della geopolitica fascista e della geopolitica craxiana arrivederci arrivederci